Ragazzi bentornati in live, bentornati con le reaction ai pc, rgb, trust, raga da gaming E' giunto il momento finalmente di liberare Don Maurizio Ma prima vi ricordo che se volete supportare la live e sbloccare le mie bellissime 40 emot Il tasto abbonati è qui sotto Abbonati vi gratis col Prime pagando 3,99 il sub costa anche meno Mauri buonasera 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 Mauri, mi accendo da fare i green screen Spammate la faccia del Mauri Io ragazzi ho un solo obiettivo Quello di rendere la faccia del Mauri conosciuta E quando andrà alle fiere non potrà muoversi Sarà invaso da ragazzini Mauri, Mauri sei tu Oh cazzo ho la spalletta della canottiera sporca di magnesite No non è sburra ragazzi non è nemmeno cocaina Come no? No cosa? Meglio non far pensare che sia cocaina che poi salta fuori che me la vendi tu Dalle tue origini venezolane No 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 assolutamente Mauri quindi tu ammetti avanti a tutti che non produci cocaina e che non la vendi Se non la produco sicuramente no Che la vendi può darsi E neanche che la svegli Ah ok va bene Mauri ragazzi non produce e non vende cocaina Ci tenevo a farvelo sapere A tutti gli interessati Vogliamo comunque parlare di quello che stiamo vedendo in questo video Ma abbiamo Iron Man Secondo me è un modo per aggirare il coppa Non ce la fate Unlucky Proprio di sistemare la mia camera che fa abbastanza schifo Bene Ecco Se butti i pannelli per terra Ok ragazzi Abbiamo attaccato tutti i pannelli Adesso bisogna Che ti guarda così con gli occhi sbarrati Sembra che abbia gli occhi incrociati Sembra che stia guardando la sua stessa maschera Che uomo ragazzi Vediamo che hai il coraggio di chiedergli se c'ha il green pass Eh Si può dire Possiamo proprio buttarle via Ecco Ma cos'è Violenza vai Ma che carte sono Boh vabbè butta via non importa Va bene ci sta ci sta Ma come può terminare basta Ma non sappia neanche con che console giochi Ha una foto neanche ce l'ho Ah ok Ecco la PS3 gioca Eccola lì Mamma mia ragazzi Ma i pc da gaming è Certamente tanta carenza che non prendono più neanche il pc Con il chiese e il resto Direttamente prendono altro Non esistono più ormai Eh no Ti farò vedere la mia specie di postazione E diciamo la mia postazione è abbastanza giusta Bene è abbastanza giusta È abbastanza giusta Va bene l'importante è che faccia il suo lavoro Qua c'è la mia foto C'è la mia foto E pure Ci sono streamer e youtuber che danno il cattivo esempio Vabbè almeno l'ha girato E poi c'era questo disegno Che è mister bin Una specie di mister bin È mister bin Ce l'ho preso Non l'avrei mai detto Ce l'avevo preso cazzo Mister bin ragazzi Oh se l'ho riconosciuto vuol dire che l'ha fatto bene GXD 695 credo Oh Vabbè comunque è Trust Asta Trust Asta Ok Oh un po' bello Corpo Cobalt Della DG Lab Ho provato tantissime cuffie Ma non come questa qua Perché mi sta veramente benissimo Sono veramente comode E mi piacciono un sacco Ci va a letto L'ho usato come cuscino Mi è convinto le compro subito Poi c'è la webcam Trust Asta Prima avevamo la tastiera Trust Asta E adesso abbiamo il Trust Asta Ma vado a controllare se si chiama veramente così Ma che non mi sono Trust Asta Si chiama veramente così Mamma mia che combinazione Trust Asta con il Trust Asta Poi c'è questo qua Questo qua che cos'è Il power line Questo qua è un ripetitore wifi Praticamente questo qua Collegato al mio wifi principale Che questo qua Busta il wifi Lo vuol dire che bussa il wifi Mauri Lo busta Ah busta Avevo capito bussa Toc toc Chi è il wifi Avevo capito bussa Aspetta Voglio risentirlo un attimo Busta il wifi Busta il wifi Ma io sento buffa La tira pronuncia molto poco Infinito di polvere Che foto è quella C'è una piadina in bocca Vediamo la foto Mauri Ah non ho una piadina È lui che pensa Guarda sex Io pensavo non so Se è un panino in bocca Eh anche a me Mi si sta mangiando la mano Milleano Cosa milleano Aspetta Ci siamo persi qualcosa Mauri Se lo leggi Da sinistra a destra Leggi Mllea Oppure Mlleu Milleano Ma che cazzo Alex Accendi lampadina Ah beh Benissimo Alla chi Vabbè adesso è accesa No Adesso rimani così Non c'è Mio padre sicuramente Avrà fatto così Tutto il tempo Così a caso Padre Il padre c'è a noi A casa Accende e spegne E poi si rende conto Che ha fatto No 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 Via che sono mio figlio Mi si incazza Qua abbiamo Un canale Che penso Potremmo vedere Per tutta la notte Oddio Mauri Perché ho trovato di fila La mia portazione Da gaming nuova I miei accessori Il mio cable Mangment Tutti in questo canale Quando iniziamo Il cable Mangment Qua è il mio cable Ah ok Non sei sbagliato Non so come si chiama Management Vabbè Ammetto che non è facile Non è una cosa che ti insegna All'elementare Poi questa Va Un'altra tastiera E qui un'altra mouse Che se ne fa Due tastiere Due mouse Questa è Una tastiera Di aerea Di aerea Come si chiama No l'ho messo 60% E invece è Un mouse Comprato su Amazon Costa 50 euro Neanche tanto Così Ma come neanche tanto Così 50 euro Neanche tanto Abbiamo un monitor Della Razer Un monitor Della Razer Un monitor Della Razer Ma Non è che se metti Lo sfondo Razer Ma A parte c'è l'adesivo Trust Lì attaccato Brandizzato È sponsor Oddio Le bambine Dove sono uscite Dove sono uscite Poi erano lì Che aspettavano Era lì che aspettavano I accessori Da gaming Oh vediamo Gli accessori Da gaming Cosa ridi Mi fa ridere Che in tam Nel vero C'è la sorella Lei è un accessorio Bello Ecco ragazza Assistente Giada Ci aprirà I cassetti E vediamo Cosa c'è All'interno Partiamo da Questo Dal primo Allora Qui c'abbiamo Delle gussie Molto buone Le fascette Perdi Mamma mia Mai viste Questi sono Dei nastri Che potrebbero Essere sempre Utili Tutto il pattume Che c'è dentro La scatola Del mouse Che si chiama Tenmos Wireless Aspetta Mauri Guarda la scatola Quello a destra Maury Leggi Mouse Wireless No Il mouse Wireless No Il mouse Poi c'è un minuto e undici Mia sorella e mia cugina Presentano la mia postazione Poi le valette Le veline Ciao a tutti ragazzi Ed eccoci il chino Stavo vedendo la cugina Che stava sbottonando I pantaloni Maury No Ma non so Guardi Così che stava smanettando Il bottone Mi sto preoccupando No 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 Meno male No si stava aggiustando Ragazzi Ma ora faremo vedere la scrivania Di nostro fratello Ma una è la cugina È vero Quelle fogliettine La stiera di Edia 70 euro Mamma mia Le avrà pagate Luce 20 euro Semplice Sì è proprio Semplice ragazzi È l'aggettivo ufficiale Di quella lampadina Lampadina è semplice Poi computer HP 1000 euro Panico degli occhi HP 1000 euro No no Mi fa pena Cioè ma che cazzo Questo è il classico Fratello baracugino Che sfrutta Le sorelle Per fare lo sporco lavoro Cioè Ha dovuto pure Sottomettere le sorelle La cugina Per fare il lavoro sporco È incredibile ragazzi Incredibile Il patriarcato Maury veramente Vai Prossimo video Bella a tutti ragazzi Sono Migli Picchia Migli Picchia E' Bertli A voi Eeeh Dopo ci sta un ospite speciale Che dopo vi farò vedere Che sta qui Nella mia rana Nella mia rana Vai ragazzi Ma che cazzo Sembra particolarmente Euforico Allora oggi Vi mostrerò Vai è tornato serio La mia terza postazione Ma come Mauri La terza infatti Allora Questa è la mia camera Prima di tutto Forza Napoli Cosa del Napoli Eh beh certo Il coso del Napoli Il coso del Napoli Cosa è il mio vecchino Con un casino Indollerabile 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 Coperta del Napoli Magli del Napoli C'è un meme ragazzi Napoletano Medio starter pack La PS5 Lì dietro Bella Il joystick azzurro Ovviamente Non poteva mancare Passiamo Napoli Napoli Ma che cazzo Cos'è questo video? Cos'è? Arturo La chitarra Arturo E qui ci sta la finestra Ma io prendo aria E fuma? Cos'è? C'è un po' Nuovissima Appena comprata PlayStation 5 Camera Pensavo a posa cenere E ok Non si vuole anche Bipare Sto detto di merda No Ma aiuto Ma che cazzo Questo è lo spirito Del Napoli Ragazzi Quando una persona Che non è di Napoli Pensa a Napoli Pensa a questo C'è E' fantastico Tutto ciò La sfondatura Bella La sfondatura Del canale La sfondatura La sfondatura Del canale Vorrei sapere cosa Intendevo con lo sfondatura E' lo sfondo Mauri La sfondatura Ma cos'è? Un trailer di un film Ragazzi E noi siamo pronti Per celebrarle tutte Ma cos'è? Una pubblicità del Napoli Questa è la nostra magia Sono i nostri colori Si Mauri E' la pubblicità Della squadra del Napoli E' Mauri E' fantastico Tutto ciò E' fantastico Oggi Arturo Mi intervista Sembra sempre fatto Maury Si è vero C'ha la mano Nei pantaloni Mauri Cos'è? No è appoggiato Ah ok Mi fa troppo ridere Questo ragazzo Si sta toccando Il pacco Non lo so Mi mette a disagio Il fatto che Hai mai conosciuto Una persona Ma si sta staccando I pantaloni Mauri C'era un filo Che pensi Subito innamorato? Non si dice Non si dice Come si chiama? Anna Chiara Anna Chiara Ragazzi L'ha detto Anna Chiara Se stai guardando questo video C'è una dichiarazione Amore per te Ah vai Basta gli iscritti Ah Ne sono pochi Oh Ho maghiato No Mauri Non ce la faccio Guardare Eh lo so Mi mette a disagio Mauri Non ce la faccio Non riesco a guardare Lo studio No Non ci riesco Non ce la faccio No 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 No